puoi sapere vai 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 dai 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 se io non posso fare pure in enti però per esempio è cucina, è cucina per campagna è cucina per campagna oh per te lo stirano per te lo stilano per te lo stimo ma guarda dai vi capisco dai 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 buona te un po' Vieni il cacciavento? Vieni il cacciavento? No! Dai, non c'è la mia! Dai, non c'è la mia! Mi scontri! Giusci! Giusci! Dai, dai, dai! Dai, dai! Mi sei scostato voi, non c'è! Dai, dai, dai! No, ti sei scostato voi. Dai, ti dai per riuscire a lavorare. Poi che muoveste, Flai? Pronti? Dai, non si scopo. Dai, non si scopo. Dai, non si scopo. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda.